Dramma a Venezia dove una giovane mamma è morta in casa a seguito di un improvviso malore. La vittima è Barbara Magro che secondo le prime notizie conviveva da tempo con alcuni problemi di salute. La donna aveva due figli. Il malore è stato improvviso ed è avvenuto sabato. Una volta arrivato sul posto il personale del 118 purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. La donna aveva due figli. Il malore è stato improvviso ed è avvenuto sabato.